Buongiorno. Buongiorno. Allora, continuo dai. Allora? Tutto bene, è ricchissimo, a bomba. Sai che è lui? Un pazzo. Un folle sarà. Sì, è la sua prima volta. Perfetto, adesso sono molto più tranquillo. Perfetto. Qua fa sempre delle mosse strane lui. In aria non dovrebbe farle. Sei carico? Carichissimo. Mi raccomando, sorridi. Vedremo se ce la faccio sorridere. Sorridi e guardami in aria, va bene? Ci vediamo dopo. Ciao. Grazie, sì. Grazie a tutti. 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 Ok, comandante, allora giù col destro. Giù, 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 giù. Vai, vai, vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' meraviglioso, dov'è? E' bellissimo cazzo! Giugno a sinistra vai! Anche perchè hai il controllo di tutto, eh già eh! Vai teee! Vicino Rossi in buono! Si qua si chiamano paracadute e plananti, buono come l'aria di un aereo, per portante Asciutto il destro! Ok, giro le mani! Bene, vatti, ci vediamo a terra! Vai, spieghi le gambe! Wuhuuu! E' qua! Allora, dove è andata? La cosa più bella del mondo! Bravissimo! Vedi provato, vai! Fatti cinque! Grande! Vittorio mehrere어�иныDS iscriviti e viva! Vittorio numero uno da!! her warto significa quello che puoi usare! Una cosa più bella! Segundamente przestrasilmata da la sua steering Ц